E' Gianfranco Vissani. Gianfranco, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Gianfranco, a parte l'anno sabbatico, ma tu comunque anche a distanza le ami, no? Quindi non si può dire che Gianfranco Vissani sia contro le donne, però Gianfranco, qualche tempo fa, ha detto qualcosa rispetto alle donne in cucina. Cosa hai detto, Gianfranco? Vedi, questi locali che sono, diciamo, gourmet, fanno i soprammobili, fanno pentolini piccoli, ci vuole agilità, chi non è stato mai in cucina non lo può sapere, ma chi fa i numeri? Chi fa i numeri? Ci vogliono i pentoloni? Cioè non è che la tecnologia, la tecnologia, l'induzione che fa male anche le persone, un concentrato di induzione che è quello di persone che sono vicino, cioè ci vuole sempre il gas per poter mandare avanti, perché le induzioni nessuno sa, però fa male, è un concentrato. Avete capito anche questo? Perché ormai si usa l'induzione, ma... Beh, si sta andando in aumento. È un concentrato, attenzione. È un processo, è un aumento che tutti quanti noi ce la prenderemo nel culo. Perché nessuno lo sa, sì, nessuno lo sa, non si rendono conto il male che fa. Nei paesi scandinavi usano molto le induzioni, ma infatti ha visto, non trombano più, porai... Dai, Gianfranco... Ma Gianfranco, ma Gianfranco ce l'ha le donne in cucina, no? Chiediamolo, però. Ma io ce l'ho, ma c'è sempre in pasticceria. In pasticceria? Come dice il rinco, vedi? Non lo sapevo, visto? La pensate allo stesso modo, allora. Sempre in pasticceria. Non è un problema che, cioè, ci sono le tedesche che scendono in cucina. Non è vero. Ah, perché le tedesche sono più forti, più solide, diciamo. Sì, ma ci hanno due cose che sembrano due tamburelli, però... Ah, beh, Gianfranco... Questo è una sagra propria... Sì, no, Gianfranco, però sei terribile. Aspetta un secondo. Aspetta, Gianfranco. I pentoloni si prendono in testa. Allora, sentiamo Barbara Agosti, del ristorante Ex. I pentoloni cominciamo a tirarli, se l'argomento va con me. No, i pentoloni, guarda, io dico solamente questo. Prendete una casserola con il doppio bordo di acciaio, un rondò per farci il risotto. Io voglio vedere sulla mantecazione se spallano le donne per poter fare una cosella. Perché la mantecazione al risotto si fa fuori, no? Tu mi dirai, ma ancora al risotto, mangiate il risotto al piatto, che poi posso fare. Però quando fate la mantecazione ci vogliono le spalle. Perché se no come fa a fare la mantecazione? Cioè lo devi mantecare fuori dal fuoco. Iside che dice? Che dice Iside De Cesare? Io dico che stiamo raccontando dei manovali da cucina e non degli chef. Perché il problema qui non è sull'impatto fisico. Inevitabilmente se una donna non ha la forza per mantecare un risotto per 150 persone può anche chiedere l'aiuto in questo. A parte che non è vero perché io... Ma è l'aiuto, signora? Scusi, posso finire, dottor Vissani, dal momento che l'ho sentita parlare. Aspetta Gianfranco, sentiamo Iside, poi rispondiamo Iside. Allora, intanto uno chef è una persona che deve essere preparata tecnicamente e deve saper fare. Poi ci sta un'età in cui... È una parola grande? Eh? È una parola grande, chef, signora. Sì, infatti è una parola grande, ma io ho tutto il rispetto della sua professionalità e quindi penso che stiamo parlando da altro. No, no, certo, certo. Allora, è vero quello che dice lo chef Vissani da un certo punto di vista. Guardato da un lato, cioè c'è un impatto sulla forza fisica che effettivamente in pasticceria va a venire meno perché l'attrezzatura è più grande e l'attrezzatura fa un lavoro che il corpo femminile effettivamente fa fatica a fare e quindi la donna riceve un grande aiuto dalla tecnica. Questo però non vuol dire che le donne non possano stare in cucina intanto perché non tutti fanno dei numeri grandi quindi si può scegliere anche il segmento della cucina più affine alle proprie caratteristiche e questo vale per gli uomini e vale per le donne. Seconda cosa, io ad esempio faccio anche eventi e ne faccio anche per grandi numeri. Prima cosa, non ho problemi a mantecare un risotto, sicuramente non sollevo la padella ma faccio scivolare ho trovato in base al mio fisico il modo per superare il problema di non sollevare perché non mi devo rovinare i tendini, questo sicuramente. Ma c'è anche un'altra cosa che per diventare chef che vuol dire capo, vuol dire capo di una brigata fondamentalmente si deve essere competenti e saper guidare la brigata al risultato. Questo non vuol dire che se uno ha 45 anni di carriera per 45 anni ha l'impatto fisico su tutto quello che viene preparato, ha l'impatto fisico dove deve intervenire a correggere e far vedere come si deve fare una cosa. Il problema non è se effettivamente una donna ce la faccia o no, se gli si dà l'opportunità. Poi c'è anche una scrematura, ma questo vale per uomini e donne. Ho visto tantissimi ragazzi che dopo 5-10 anni hanno iniziato a dire non è la vita che fa per me, troppe ore, troppa fatica. È faticoso, in quel caso mollano. E Barbara Agosti e poi torniamo a Federico e poi torniamo da Gianfranco. Barbara Agosti. Sì, sicuramente quello che diceva Iside è giustissimo. Innanzitutto quando si cucina nelle cucine o si fa banchettistica, ma si fanno anche grandi numeri, ma facendo delle piccole porzioni. Noi arriviamo a fare anche 150 coperti, ma non faccio 150 risotti in una botta sola. Quindi comunque le padelle che noi utilizziamo non sono questi padelloni esagerati come forse ci sono negli alberghi. È chiaro che se uno fa una ristorazione d'albergo o fa banchettistica, ovviamente dovrà fare molte più porzioni contemporaneamente e quindi l'impatto fisico sulle padelle o su quello che si va a muovere è più difficile. Noi al ristorante, anche quando facciamo tanti numeri, abbiamo comunque delle piccole porzioni per volte. I tavoli sono da 6, 8, 10 persone e soprattutto non tutto il tavolo magari prende il risotto o tutto il tavolo prende la carbonara o tutti i piatti che vengono mantecati. Per cui c'è anche chi sta nelle varie linee, chi sta alla linea degli antipasti, chi sta alla linea dei secondi. Non facciamo uscire delle porchette intere da dover girare così. La tecnologia ci viene incontro ma anche le porzioni di una ristorazione non sono così esagerate come uno può immaginare. Federico De Cesare Viola, poi leggiamo anche qualche messaggio. Qualche botta per Gianfranco, Riva. Federico De Cesare, dai. Sì, in realtà quello che avrei voluto dire l'hanno già detto brillantemente sia Iside che Barbara e mi do la condizione, nel senso che non vedo perché oggi uno chef o una cuoca non possa essere aiutato in alcune fasi delle preparazioni così come non vedo perché non si possa scegliere il modello, lo stile di ristorazione di cucina che sia più adatto alle proprie caratteristiche. E oggi appunto ci sono talmente, come dire, tanti modelli che fanno sì che uno possa scegliere quella più adatta come diceva giustamente Iside. Quindi ringrazio anche per essere brillantemente uscito da quella che mi sembrava stesse diventando la sagra del luogo comune sul mondo della ristorazione al femminile o della cucina al femminile. E beh però poi alla fine, scusate, se vai in giro nei ristoranti è complicato trovare donne chef. E Gianfranco, ti dicono maschilista. Non fa strano. Bene. Sì. Eh? Ascoltami. Giustamente. Io ho una brigata di 30 cuochi. Sì. E ci sono otto donne, ma crollano tutte. Voi mi dovete spiegare quanto siete intelligenti, ma quando fate 150 persone, cominci a fare tutti i giorni spadelli, setto, otto spaghetti, prendi sulla calzeruola, cominci... Ma le donne non gliela fanno fisicamente sulle spalle, no? Ma lo capite o no? Lasci perdere quelle... Anche mia madre era un muro, ma era mia madre. Come tua madre, come sua madre. Ma sono donne anziane. Ma dove state a lavorare? Dentro una sala operatoria? Ma come fate a parlare così? Enrico vorrebbe intervenire. Mi ha piacere. Intanto no, dobbiamo differenziare, su questa ragione Gianfranco, un conto fare un ristorante con quantità, tanti numeri, un conto fare un gourmet, insomma, lo diceva anche Esite, è proprio diverso, no? Sono le porzioni più piccoline, le porzioni, anche le padelle, sono più piccole. Però i dati dicono questo. Sì, ma non possiamo giocare, mi scusami, non possiamo giocare quello ristorante che fa per te, quello ristorante. Il ristorante, l'istorazione è completa, gourmet e non gourmet. Cioè, quello è pesante, quello è meno pesante. Quindi si parla di banchettistica, ragazzi. Ma io so 50 anni che so dentro le cucine e ancora non capisco le donne, lo stanno. Non ho capito, lo stanno le donne. Ne ho suono. Ce ne ho 8, però dice che non durano. Eh, ma sono 8. No, aspetta, Gianfranco. Sanno in pasticceria, dai. Che le prendi a fare se poi non durano? Ma perché vengono lì in pasticceria, fanno un po' di po' se ne vanno. Neanche in pasticceria tu non andai a Gianfranco. Ci sono le padelle in pasticceria. Sì, ma sono lavori. Adesso lavorano con le pinzette, con i pizzoli lavorano. Con le pinzette. Ma ti rendi conto? Allora, fermi. Vengono il pizzellino, sopra lì. Tre ore per un chissot piatto e non se mangia mai. Allora, Gianfranco, sei veramente incredibile. Allora, solo un'ultima cosa. Ma sull'anno sabbatico è finito o ancora... Ancora, Francesco, questa cosa. No, per sapere. Scusa, chi è questo ragazzo che parla? Enrico Camelio. Enrico Camelio. Enrico, io ho fatto all'Irto 1200 persone. 1200 persone. In un'ora e dieci. 1200 persone. Sì, beh, quella performance è rimasta leggendaria. Questo lo posso dire. È vero. Allora, voglio dire, c'erano le donne, ma le donne mettevano... Metti il pizzellino lì sopra, metti il fagiolino. Hai capito? Una fava, magari. Quindi se ne sono per le decorazioni, per Gianfranco, sono per le decorazioni. Se ne la sono cucina, sicuramente. Sicuramente hanno più estro degli uomini. Ah, ecco. Nel preparare il piatto... Nell'impiantamento. Elisabetta, che è fenomenale. Io faccio Elisabetta. Stai qui al passo, non ti muove. E lei non si muove, ma lei fa i piatti con una certa decorazione, mette la sfumata, mette lì, mette quell'altro. Ma, ragazzi, 1200 persone. Lo sapete che significa? Vabbè, la fine vi ha fatto un complimento. Cioè, voi siete della qualità e... L'estro, l'estro. L'estro, l'estro. Ma no, ma... Scherzi. Vengo dall'Ilto, vengo dall'Eccelzio, da Savoglia di Londra. Questi posti, che ne so, prulicavano di cuochi. C'erano 300 cuochi a Savoglia di Londra. Cioè, però per farti capire che i lavori lascia prendere le nostre trattorie, che c'era la mamma, il papà, la sorella, che fanno un sedere che non se ne va più. E non mollano! Non mollano! Perché sono pressioni che vengono dalla sorella... Allora, un attimo, Iside, Iside de Cesare. Dai, Iside. Io vorrei dire una cosa. E la discriminazione più grande ad oggi non è poi neanche quella di parlare dell'impatto fisico. Perché io già anni fa, una volta, dissi che effettivamente bisogna, per avere una parità di opportunità, partire dal discorso che siamo comunque diversi. Perché dire che siamo uguali sul piano fisico... Tra uomini e donne, dici tu. Certo, beh, è chiaro. Un'assurdità. Detto questo, la vera discriminazione dov'è? Che se un ragazzo nel suo apprendistato sbaglia qualcosa in un ristorante e si reputa di mandarlo via, si dice, qua, quella persona non ha funzionato, prendiamone un altro. Se una donna sbaglia, si dice, non ha funzionato, basta donne. La vera discriminazione è questa. Entrare in una cucina e avere un atteggiamento di uno chef come quello dello chef Vissani, che io stimo professionalmente, ma dal punto di vista di alcune cose che lui dice sul piano proprio umano, veramente mi sento di dissentire. Dov'è il problema? Che avere uno chef che deve coordinare e motivare e avere questo atteggiamento, ma quale donna può andare a formarsi professionalmente? È normale che se uno non è più che motivata se ne va, se no vada un altro chef e spera di trovare qualcuno di illuminato. Scusi, eh, chef Vissani? Barbara, Barbara Agosti, sentiamo anche Barbara. Sì, 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 assolutamente. Cioè io ho lavorato in varie cucine e ne ho fatto anche 1800 di coperti e quindi non ho mai avuto questo problema dell'impatto fisico, ecco. Secondariamente, al di là dell'impatto fisico, la cucina è tanto altro. La cucina è estro, la cucina è comunque il sapore, la ricerca della materia prima, il sapere combinare i vari piatti, l'avere fantasia, il creare un menù, il sapere comunque guidare una brigata, perché non credo che Vissani per tutta la sua vita stia ancora in cucina a spadellare, perché il problema delle donne ce l'hanno anche, il problema delle persone che comunque non sono più giovanissime. Non credo che si riesca a tenere gli stessi ritmi maschi o donne a 20 anni rispetto ai 70-80 anni. E credo che abbia fatto 1200 coperti da solo. Esatto. Sì, da solo. Le gioca fatti da solo. E vabbè. Le anche i serviti. Federico. E anche mangiati probabilmente. Federico da Cesare. Sì, ma il punto, alla fine importante di questa discussione, sembra di nuovo l'aspetto discriminatorio che come vedete è ancora diffuso. Quindi quello che diceva io ne sono d'accordissimo, nel senso che questo tipo di diversità di trattamento è poi quello che spesso impedisce o chiaramente fa abbastare le motivazioni o la voglia a molti giovani, a molti studentessi di proseguire nella carriera. Perché questo atteggiamento è purtroppo ancora diffuso in tante cucine. Quindi spesso è quello che impedisce davvero poi di proseguire. Bisognerebbe lavorare molto su quello. Perché sul discorso dei numeri, sul discorso della differenza di genere è spesso che siamo tutti d'accordo. e anche retorica continuare a pensare di dire uomini e donne siamo uguali in cucina. No, però le opportunità devono essere le stesse, questo sì. Allora, Gianfranco, siamo ai saluti e vuoi so che volevi salutare in America ci sono queste ragazze americane. Se voi vedete loro l'ultimo piatto, me che ci stanno mai in cucina, stanno negli uffici a creare i piatti. L'ultimo piatto che si mettono lì quando è un momento di folla per farsi notare. Io non voglio discriminare le donne perché non me lo permettono. le vuole solo insultare. Voglio dirvi voglio dirvi vabbè, riferito alla cucina dai. Ma scusa, Gianfranco sostiene che negli Stati Uniti anche le donne chef stanno in ufficio, arrivano in cucina solo alla fine quando devono portare il piattino quello pure gli ex-segui di chef. Quante donne avete? In trasmissione due, sì. Ah, quante donne hanno loro? Iside, quante donne avete? Io vorrei vedere quando... Mettiamo la partita del pesce. Cominciate a sfirettare i branzini o un morone da 4-5 chili e tutto questo è pesante. La carne, quale se non sta la carne? La premiamo già in predisposta. quale se non sta la carne? Ma mi fa male a me. Io mi ricordo quando toccavo la carne. Ma perché lei ne fa una questione di sfida invece che una questione di qualità da mettere sul piatto e da proporre all'avventura? Io non capisco. Ma il piatto, signora, qui non si tratta, qui non sanno più sfirettare né sfirettare né si rossare la carne. Per piacere, Iside, ma dove vive? Io, vicino a lei, lo so, siamo quasi vicini di casa. Facciamo questa sfida, allora. Ma non sanno neanche sfirettare, non si conoscono neanche le parti anatomiche per la macchina. Però i ragazzi in generale, non solo le femmine, anche i maschietti. Ma è chiaro, i ragazzi in generale. Sì, sì, sì. Ma non sanno neanche come pulire un odino. Non lo sanno. Purtroppo questo qua è vero. Sono ambiti diversi. Questo qua stiamo entrando nel punto di vista tecnico. Il fondo blu si compra oggi, lo sa. Sì, ma ho capito. Ma qui invece parliamo di apertura verso una pari opportunità a persone competenti. Ma che cosa c'entra? Adesso direi che la donna è incompetente e l'uomo è competente. Il ristorante gourmet è il ristorante gourmet. Quello non si tocca. Ma tanto ci capisce il cazzo, manco lo chef. Figurati se può fare il ristorante gourmet. Pure lei c'è un ristorante gourmet, c'ha fissani, eh. Eh, dice Iside che anche tu, Gianfranco, hai il ristorante gourmet. Io sì, signora mia. Guardi, non vorrei parlare perché non devo parlare del mio locale. Per se vede, io sono stato a prendere un premio a Parigi e io sono stato lunedì a Sena perché questa è la lista, signora, e questa a livello governativo non è a livello che ci sono le acque minerali in mezzo. Questa è la lista a livello governativo. Io sono andato lì, c'era il mondo, c'erano tutti i più grandi chef del mondo, signora. Io, insomma, mi ero un po' commosso perché io non sapevo neanche che c'era un macello di gente, però per farle capire, e mi hanno dato questo premio. Io ero felice, insomma, ero felice di essere lì. Federico, prima che chiudiamo facciamo una sfida, la organizziamo Radio Radio, Food & Wine Italia, Iside, Barbara e Gianfranco, stessi ingredienti, stesso menu, stesse dosi, e vediamo che pizzi. però potrebbe essere interessante. Eh, dai, bisogna rischiare, è una sfida divertente. Accetti Gianfranco? Sì, sì, io mi diverto. Guarda, assolutamente sì. Iside, è andata, è andata. No, ma oltretutto Gianfranco è un collante di rapporti, non il contrario. Gianfranco, grazie a Gianfranco Vissani, buona giornata.